Lui di 26 aprile, buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Fano TV sul canale 17 visibile sul digitale terrestre in tutta la regione Marche, c'è occhio ai giornali, commento alla stampa del giorno, commento alla stampa del lunedì con molti articoli dedicati allo sport, si stanno in alcuni casi concludendo i campionati, si hanno già i primi riscontri, le prime sentenze, ma andremo a vedere tra poco. Intanto il santo del giorno lo vediamo subito, oggi è San Cleto, il sole è sorto alle 6 e 9, tramonterà 7 minuti dopo le 20, il tempo. Trebimeteo.com da lunedì, oggi peggioramento al nord e al sud, l'Italia è divisa in due con al nord piogge, nord è anche parte del centro, comprese le Marche e pioggia, al sud invece avranno tempo estivo, praticamente con punte di 25-26 gradi centigradi, vediamo la foto per oggi, pomeriggio la pioggia, comincerà a interessare le Marche, soprattutto la regione, la parte centro-meridionale, un po' più soleggiato invece al centro-nord, vediamo martedì, martedì la situazione più complicata è nel pomeriggio, sempre compresa la sera con piogge insistenti, vedete, su quasi tutta la regione. E adesso andiamo a vedere i giornali, partiamo dal Carlino di Ancona, attenti al lupo, questa è la fotografia che hanno scattato i carabinieri che hanno scortato questo lupo in pieno centro per salvarlo dalle automobili, questo è il Carlino di Ancona. Quello di Pesaro invece è tutto dedicato allo sport, tripla missione compiuta, la VL si salva perdendo, la Vis sbanca Mantova ed è al sicuro, l'Ital Service invece si prende la Coppa Italia di calcio a 5. I locali riapro invece incubo coprifuoco, ritorno alla vita per bar e ristorante all'aperto con la spada di Damocle delle 22, l'orario del coprifuoco, prove di ripartenza. Tre giorni senza vaccini invece dal 30 si ricomincia, ma solo con i richiami, lotta al Covid, macchina ingolfata. Si andrà invece anche nei cinema però alle 19 da mercoledì in due sale di Pesaro, quelle che non hanno chiuso a Fano non so nemmeno quante siano rimaste aperte, comunque questo per dirvi che riaprano anche i cinema. Il Fano resta in ballo, play out contro il Legnago oppure contro Limolese, mentre a Urbino, la cronaca, rave party sulle Cesane scattano 40 denunce, addio a Luigi Pritelli, l'uomo del discoteca, tra i suoi locali aveva anche la baia imperiale, e poi la sottosegretaria diserta il 25 aprile, lei dice però nessun invito, Rossella Cotto assente alle celebrazioni di Fano dal Comune, dice zero comunicazioni, mentre il Corriere Adriatico, edizione di Pesaro, De Orso, ok per 150 attività, le altre 30 restano in attesa, l'assessore Frenquellucci dice qualche situazione un po' delicata, gli altri avranno il via libera, adesso resta il problema, tutti vogliono lavorare, i ristoratori, quindi tutti vogliono, cercano dove non c'è la possibilità ancora, o dove non l'hanno mai avuta, di trovare qualche posto per mettere dei tavolini all'aperto, quindi poter lavorare, magari sacrificando qualche parcheggio, addirittura chiudendo delle vie, come succede a Pesaro, da Baia Flaminia parte la richiesta di un tratto di strada pedonalizzata alle spalle di Piazza Europa, centropagine invece la Vis vince a Mantua, resta dunque in Serie C, mentre il Fano raggiunto dalla Triestina 1 a 1, poi la situazione degli alberghi, il coprifuoco ferma i turisti, nessuno vuole andare in vacanza e tornare in albergo alle 10 di sera per poi fare cosa? Boh, andare a letto, un auditorium al campus, Baldelli strada percorribile, Fioravanti cancella le sinergie Spuntini con il Conservatorio, poi a Fano affitti, soldi finiti, ora si vive nei bed and breakfast, senza acqua e luce, rave parte alle cesane, denunce per 40 giovani. Allora che cosa si può fare? Oggi siamo in zona gialla, l'abbiamo detto più volte, noi balneari dimenticati, vero motore del turismo, questo è l'articolo del Corriere Adriatico, sciolto il nodo, nelle marche anche questo settore può tornare dunque in pista da oggi, l'amarezza però della categoria che dice nel decreto apertura noi non siamo stati contemplati. E negli alberghi le prenotazioni come dicevamo vanno a rilento, il coprifuoco alle 22 scoraggia i turisti, piglia poco della Federalberghi dice luglio e agosto sono i mesi più gettonati, un turista non vuole essere condizionato dal rientro forzato alle 22, specialmente d'estate, dovendo scegliere potrebbe anche decidere alla fine di andare in vacanza all'estero dove magari queste restrizioni sono assenti perché ovviamente giudicate un po' esagerate, soprattutto per l'estate insomma. Non si può cenare fino alle 22, tornano cinema e spettacoli, ricordiamo che non si può violare il coprifuoco alle 22 sperando di non poter mostrare lo scontrino del ristorante alle forze dell'ordine in caso di controlli. Dunque lo ha chiarito il Viminale con una circolare che è stata inviata a prefetti e questori per precisare l'applicazione delle nuove norme che hanno suscitato polemiche e interpretazioni forzate. Dunque se vi fermano, perché stasera qualcuno vuole fare il giro come dire al ristorante, se qualcuno vuole andare al ristorante, insomma sappia che non vale la giustificazione dello scontrino. Qualcuno ci aveva già pensato, io faccio vedere lo scontrino ai carabinieri, alla polizia, insomma chi delle forze dell'ordine mi ferma, ma questo non vale. C'è questa precisazione, questa lettera, questa informativa che è arrivata direttamente dal Ministero e che appunto indica a prefetti e questori che non ci saranno scuse. Alle 22 bisognerà essere già in casa, nelle proprie abitazioni, cena o non cena, ristorante o pizzeria. Ok, questo è importante da ricordare perché uomo avvisato e mezzo salvato, poi cinema e teatri abbiamo detto con posti numerati riaprono il pubblico in zona gialla, cinema, teatri, sale di concerto, live club, una novità assoluta per il settore spettacoli che più di tutti ha subito gli effetti devastanti di questa pandemia, la capienza massima consentita del 50% di quella massima autorizzata è comunque non superiore a 500 spettatori al chiuso e 1000 spettatori all'aperto. Poi il ritorno anche dei musei ma non nel fine settimana. Continua dunque l'attività sportiva per chi vuole fare sport anche di contatto, quindi penso le partitelle, quelle che si fanno a calcetto insomma, quelle che vanno tanto di, che piacciono tanto. Nel rispetto delle linee ovviamente guida ci sono anche queste possibilità, squadre di calcetto di contatto, mentre tutto fermo per gli eventi e le competizioni di livello agonistico a livello nazionale. Le piscine riapriranno invece il 15 di maggio ma soltanto all'aperto e con le misure anti-covid, mentre le palestre potranno ricominciare l'attività il primo di giugno. A scuola invece in classe adesso fino al 70% in presenza. Anche in zona gialla i centri commerciali, i negozi che stanno dentro resteranno chiusi il sabato e la domenica, mentre per le fiere e i congressi bisognerà ancora attendere un po'. Però c'è anche su questa pagina la notizia che continua il calo dei ricoveri nelle Marche, anche nelle terapie intensive. I dati sono incoraggianti sulla situazione sanitaria marchigiana. Le rianimazioni per esempio dopo giorni di stop dove tutto era fermo hanno registrato l'uscita di due pazienti e dunque da 70 ricoveri adesso sono in tutta la regione Marche ricoverate 68 persone. È chiaro che le terapie intensive hanno bisogno di più decorso, c'è più tempo, addirittura c'è gente che esce dopo sei mesi, come riporta il Carlino nella pagina, nella cronaca di Macerata. Deors ok per 150 attività e altre 30 restano in attesa. L'assessore pesarese Frenquellucci dice ci sono cinque o sei situazioni più delicate, gli altri avranno la via libera, non solo bar e ristoranti, per le richieste di commercianti di Baia Flaminia il risponso arriverà mercoledì. Ci sono richieste di spazi esterni anche dagli operatori di via Pantano, cioè di Pantano e di via Giolitti. Ristoranti ancora da Pesero pronti al via, primo sole, monti al mare, molti al mare. Da oggi siamo in zona gialla con i locali che aprono per cena fino alle 22, ieri tanti pesaresi a passeggiare sulla spiaggia oppure lanciati sulla pista ciclabile. I vaccini invece l'assurdo stop di tre giorni, esaurite prima le prenotazioni, quando si dovrebbe accelerare l'ex-Aristò si ferma da domani, Fano e Urbino invece vanno avanti, il responsabile dice avevamo programmato 1600 persone al giorno, invece sono state al massimo circa 800, intanto ieri sei decessi ma calano i ricoveri. Dalla pagina di Fano del Corriere invece vi segnalo questa intervista di Massimo Foghetti con il professor Roberto Tonelli che è un ricercatore e fondatore di Biogenera. Il Covid dice lui si ferma con un farmaco, spiega la ricerca della sua equip. Addio invece a Pritelli, una vita sulle piste da ballo, è morto il patron, il primo patron della rinata ex Baia degli Angeli, diventata poi Baia Imperiale di Gabicce Monte, Luigi Pritelli, 73 anni di Riccione. È morto per un malore improvviso nella giornata di sabato e l'ha ucciso in poco tempo, la corsa in ospedale non è dunque servita, il suo cuore aveva già smesso di battere. E qui il Corriere, il Carlino oggi ricorda l'attività, la vita di Luigi Pritelli a metà degli anni Ottanta, quando aveva messo la firma su alcuni progetti più significativi dell'intrattenimento d'otturno nella riviera adriatica. Poi sull'altra pagina invece, quella di Fano del Corriere Adriatico, affitti impossibili, ora si va nei bed and breakfast, diversi vivono senza acqua e luce, case Covid, la crisi continua, sblocco, sfratti e lavoro perso, i proprietari si tutelano, l'allarme è del sindacato CISL, poi Lido e Sassonia, weekend di folla, ieri complice il bel tempo, insomma non poteva essere altrimenti. Mentre Giovanelli a capo della consulta animalista raccoglie le organizzazioni del volontariato, polizia e servizio veterinario ASUR. Baldelli, l'assessore regionale Baldelli è pronto a modificare la convenzione tra regione e comune per spostare i 20 milioni di euro dalla strada di Gimarra ad un tracciato alternativo. Mentre la Fano Urbino finisce sul tavolo del vice ministro leghista Alessandro Morelli. La sottosegretaria diserta il 25 aprile, la sottosegretaria in questione è Rossella Coto di 5 Stelle, fanese, lei dice io non ho ricevuto nessun invito dal comune di Fano, non sarò presente alla commemorazione, il sindaco CISL dice mi spiace se c'è stato un disguido ma avrebbero potuto partecipare ugualmente. Mentre Ricci dice la liberazione è la festa del ringraziamento parlando della manifestazione che si è tenuta appunto ieri in città a Pesaro. Tra l'altro vi ricordo che Ricci questa sera sarà in diretta qui su Fano TV dopo il telegiornale nel corso di Primo Cittadino. Quindi pesaresi che vogliono fare domande al sindaco e possono intervenire questa sera in diretta. Musica pesantissima invece nelle Cesane, i carabinieri bloccano il rave party, sono state identificate 40 persone da tutte le marche, dalla Romagna, addirittura dalla Lombardia. Denunce per 16 mila euro. Addio al professor Patrignani, vero amico degli studenti. A Falconara venerdì scorso è mancato il professor Girolamo. Patrignani era nato a Corinaldo nel 1938, i suoi ex studenti lo piangono. Oggi alle 10 il funerale della chiesa del Santissimo Rosario. Mentre anche il Carlino parla di questo rave party sulle Cesane, siamo dalle parti di Urbino, fosse un brone Urbino, 40 denunce. Si erano preparati meticolosamente per la grande festa alle 3 di notte, ma sono stati sorpresi dai carabinieri, saranno anche tutti quanti sanzionati. Insomma erano un bel gruppo di persone, questi sono i resti di questi rave party che si tengono così solitamente appunto nelle Cesane. Mentre Casa dello Studente a Fano l'accordo è fatto, la sede è al Sant'Arcangelo. Fatta la convenzione tra il Comune e l'Erdis, ci saranno circa 30 posti letto. Multate 12 persone nel fine settimana, 7 facevano una partita di cricket a Senigallia, task forza dei carabinieri per il rispetto delle norme Covid, i giocatori tutti stranieri di cui 5 profughi. Due giovani soccorsi invece quasi in cometilico, eccessi sul lungomare la denuncia di un operatore, dal pomeriggio girano ragazzi con le bottiglie di vino. Vediamo adesso velocemente lo sport, allora il Fano, la situazione per il Fano è questa, andrà ai play-out contro Limolese o il Legnago, scampati invece i temuti toscani. Fano un punto basta per evitare l'Arezzo, Granata avanti con Barbuti, la Triestina pareggia nel finale. Mentre la Vispesero, anche se ha perso a Mantua per 1-0 e comunque ufficialmente resta in Serie C e per la Vis, il giorno della liberazione, bastava il pari alla luce del tracollo del Legnago a Modena, ma i biancorossi hanno voluto mettere una cornice di salvezza anticipata. Quindi, ho detto male, Vispesero che vince, scusate, a Mantua e quindi bastava un pareggio, ma ha fatto di più, ha vinto e quindi si è portato a casa addirittura tre punti. Ora, invece, chi ha già tirato su la Coppa, parliamo di Coppa Italia, è l'Ital Service, calcio a 5 a Pesero. Ital Service da urlo, Pesero alza la Coppa Italia, la squadra di Colini, Doma e Eboli e mette in bacheca il trofeo che va ad aggiungersi a quello già conquistato in Serie A2. E ora l'obiettivo è quello dello scudetto. Poi, la CBF Balducci, qui parliamo di pallavolo, spaventa la capolista Roma, le ragazze di coach Paniconi vanno avanti per due volte, poi si arrendono al tie-break, la CBF Balducci perde 3 a 2 contro Acqua Sapone Roma, ma vince invece la Mad Store di Macerata, 3 a 1 contro Aurispa Libello e la Lecce. Dunque, per quanto riguarda i play-off, partenza sprint per Macerata, poi il Lecce si rifà sotto, vittoria al quarto set, domenica gara 2 in Salento, quindi Mad Store ha un passo verso la semifinale. Per la VL invece, basket pesarese, occasione gettata, ma comunque alla fine è salva, dopo aver condotto per 29 minuti contro Milano, viene superata e battuta solo nel finale. Poi in serata Cantù cade a Bologna e retrocede. Noi invece andiamo avanti, andiamo avanti perché adesso partiranno tutti i programmi di Fano TV alle 7.30, per chi ci segue in diretta, ci collegheremo con la Santa Casa di Loreto per la Messa del Mattino. Poi stasera, 20.30, come già anticipato, il telegiornale, seguirà Primo Cittadino con Simona Zonghetti e l'ospite sarà il Primo Cittadino di Pesaro, Matteo Ricci. Grazie per averci seguito, buona giornata. Grazie a tutti.